Tre minuti prima della puntata di questa sera delle interviste di qualità che ci stanno dando davvero grandi soddisfazioni un po' in tutte le regioni italiane con alcune regioni che ci hanno ancora di più e particolarmente soddisfazione per descriverla più una pillolina finale. Allora si divide in due momenti, il primo momento è un'intervista già andata in onda ma che ci è stata richiesta, richiestissima, veramente a grande richiesta, l'intervista alla dottoressa Elisabetta Belloni che è responsabile, il capo del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, che è appunto il DIS, che è la prima donna a capo dei servizi segreti italiani, il cui nome peraltro, quello della Belloni, balzò anche agli onori della cronaca durante le ultime elezioni per la Presidenza della Repubblica. Il secondo momento è un'intervista invece più lunga, di una ventina di minuti, ad Alessandro Petruzzi che è il presidente del parlamentino di Feder Consumatori e lì si parla di tre argomenti. Il primo è una sentenza del Tribunale di Spoleto che è una pietra miliare, importantissima, per la libertà di stampa in Italia. Il secondo momento riguarda invece i grossi problemi che i cittadini stanno trovando, nonostante il decreto Bersani, il decreto dell'insolate di Bersani, nel poter cambiare presso la propria banca dal tasso variabile al tasso fisso in questo momento, ma anche l'inverso, dal tasso fisso al tasso variabile, Petruzzi conferma che ci sono numerosissime richieste e proteste da parte dei cittadini e spiega perché c'è questo impasse. Il terzo riguarda le bollette dell'energia e del gas con aumenti, con cittadini che si sono trovati, soprattutto quelli che hanno cambiato operatore, degli aumenti più alti di quelli di chi non ha cambiato operatore e Petruzzi ci spiega il perché e avverte del rischio che bisogna stare attenti per non pagare due volte tutta una serie di oneri quando si fa questo passaggio di operatore. La pillolina, proprio perché non viviamo sulla luna, parliamo brevissimamente delle primarie del Partito Democratico vinte da Elie Schlein sul presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, sarebbe lungo ovviamente analizzare questo voto, non è questo il caso, con pochi secondi, però un dato che ho visto che è balzato fuori poco, anzi pochissimo, quasi niente, è che tutti i sindaci, tutti i presidenti di regione di sinistra, tutto l'apparato amministrativo, cioè di incariche amministrative, in grandissima parte era con Bonaccini eppure ha vinto la Schlein. Quindi il partito dei sindaci che spesso viene invocato in qualche maniera come rinnovamento proprio per la sua capacità di stare sul territorio, non funziona a livello nazionale e i sindaci non sono stati in grado di portare la gente al voto oppure la gente è andata e ha votato diversamente. Questo è un grande tema di riflessione, non c'entro ovviamente nella riflessione, ma ve la porgo come osservazione su cui riflettere. Un'ultimissima cosa, c'è area, come avete capito, di maggiore radicalità nella politica. Finora la maggiore radicalità nell'esprimere le proprie posizioni, nel difendere i propri sceti sociali, di riferimento e così via è stata dimostrata in questi anni dalla destra. Basta citare due organi della destra, di stampa, il giornale Libero per capire qual è la radicalità di queste posizioni, adesso questa radicalità, tornando all'antico, rispunta anche a sinistra. Sarà interessante vedere i risultati, sarà interessante vedere fino a dove arriverà questa maggiore radicalità, sarà interessante vedere quali alla fine sarà il bilancio finale, se sarà un bene o un male. Buona visione! Premio Italinforma 2022, la quinta edizione di un premio che si era già molto affermato, ma cresce ogni anno di più. E abbiamo con noi, sono davvero molto contento, per non fare questioni di gender, l'ambasciatore Elisabetta Belloni, l'ambasciatrice Elisabetta Belloni, che è direttore generale del DIST, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. E lei dal 12 maggio 2021. Senta, vorrei farne una domanda. Nel 2007 l'intero apparato di intelligenza nazionale subì una profonda riforma. Dal 2007 ad oggi la situazione si è ulteriormente modificata, anche complicata per certi versi, per le situazioni mondiali. Ecco, la domanda è per questa. Come è attrezzato oggi il sistema di intelligenza italiano davanti a queste nuove sfide? È certamente vero che il mondo di oggi è caratterizzato da minacce sempre più pressanti, sempre più complesse, sempre più causate da fattori che sono fra di loro interdipendenti. E questo naturalmente richiede che l'intelligenza si doti degli strumenti necessari per affrontare queste sfide. Io credo che dal 2007 ad oggi l'intelligenza italiana ha subito una costante evoluzione, proprio al fine di essere sempre più preparata da un punto di vista sia tecnologico che professionale per affrontare queste sfide. Si tratta negli ultimi anni soprattutto di puntare non solo sulla ricerca di quegli strumenti che consentono all'intelligenza di garantire la sicurezza nel nostro Paese, mi riferisco alle attività di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, ai traffici illeciti, ma si tratta soprattutto di puntare a garantire la stabilità del Paese. Per fare questo bisogna essere equipaggiati anche in termini di capacità per identificare e promuovere i veri interessi nazionali, che sono certamente la stabilità, la stabilità sociale, la stabilità economica, la promozione della nostra industria, della nostra impresa. Negli ultimi anni c'è stata una vera e propria rivoluzione, non solo culturale, ma anche proprio pratica, che credo abbia consentito all'intelligenza di essere certamente alla valguardia, ci viene riconosciuto a livello internazionale. È vero che noi dobbiamo lavorare dietro le quinte, in silenzio, quindi spesso non si conosce il lavoro che noi facciamo, ma io invito, direi l'opinione pubblica, a riflettere solo su una semplice questione. Il nostro Paese, tutto sommato, non ha ancora, e voglio essere cauta naturalmente, visto quelle che sono le vere crisi che invece hanno colpito altri Paesi. Forse un po' del merito è dovuto anche ai tanti funzionari dell'intelligence che dietro le quinte fanno un lavoro pericoloso, un lavoro che richiede molta professionalità, molte capacità, ma che dà anche i suoi buoni risultati. Senatore, se lei ha fatto carriera nella diplomazia, e che carriera? C'è un curriculum, ricordo solo che è stata, ovviamente ora è direttore generale del DIS, ma ha ricoperto l'incarico di capo di gabinetto del ministro degli affari ES e dal 2016 al 2021 è stata segretario generale della Farnesine. Ecco, ha fatto carriera in un settore di diplomazia che non è che era così aperto alle donne, mi sembra che le donne fu ammesso l'accesso solo dal 66, se non sbaglio. Volevo capire, come ha fatto? Perché visto che lei è stata tante volte la prima donna a capo dei servizi segreti, ma lei è stata la prima donna a capo di tante cose e tante volte. È vero che la carriera diplomatica è stata aperta alle donne relativamente di recente, però oggi, devo dire, per fortuna, vi sono moltissime donne che mi possono accedere e che stanno facendo una brillante carriera. Per ciò che mi riguarda, la mia regola è sempre stata la stessa, fare al meglio delle mie capacità, cercare di mettere al servizio dello Stato la mia professionalità in maniera leale e in maniera estremamente istituzionale. Tutto sommato, devo dire che questa filosofia, questo approccio che mi ha sempre accompagnato e che deriva dall'educazione, sia scolastica che familiare, che ho ricevuto, mi ha consentito, in effetti, di fare carriera. Di rompere parecchie lastre di vetro, quindi. Senta, lei si è trovata, ha gestito tanti dossier e tante situazioni delicate. Mi vocebbe chiederle qual è, nei vari incarichi che appunto ha ricoperto, le situazioni, anche una, più difficili che si è trovata da affrontare. Un po' per casualità, forse un po' anche perché era la mia attitudine, ho sempre svolto incarichi che hanno richiesto l'assunzione di moltissime responsabilità. Questo è senz'altro vero. Direi che quindi mi sono abituata ad affrontare queste sfide, con la serenità che deriva dall'avere sempre avuto come obiettivo quello di essere istituzionale, di essere leale, di veramente cercare di fare sempre la cosa giusta. Quindi direi che le situazioni più difficili in realtà per me sono state quelle che hanno comportato delle decisioni che riguardavano le vite umane. Questo è stato vero quando lavoravo all'unità di crisi, dovevo prendere decisioni su come agire per salvare delle vite umane, delle vite in pericole. È stato vero quando mi occupavo di personale e naturalmente è vero anche adesso, quando naturalmente si affrontano contesti delicati. Proprio di recente è stata riportata in Italia, come sapete, una ragazza italiana, qui perna dall'Iran. Ecco, in quei casi le decisioni che riguardano le persone sono quelle che sono più difficili e che ti fanno soffrire di più. Un'ultima domanda a tradimento. Le ha fatto piacere che il suo nome sia girato in occasione delle elezioni della scelta del nuovo capo dello Stato, che poi è stato scelto vecchio, però insomma è stata continuata per il suo nome. Girato è molto apprezzato, devo dire. Non mi ha fatto piacere che il nome sia girato perché mi sono accorta fin dall'inizio che era un gioco di strumentalizzazione. Naturalmente quando si ricevono degli apprezzamenti questo fa sempre piacere. Grazie mille, ricordo l'ambasciatore Elisabetta Belloni, direttore generale del DISI, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. Grazie davvero. Grazie. Cari telespettatori, torna una nostra vedetta di queste trasmissioni, è segno che c'è roba buona, che è Alessandro Petruzzi, Feder Consumatori Nazionale, anche Feder Consumatori Perugia. Adesso l'incarico preciso è nazionale, non me lo ricordo, mi sembra che sia presidente... Direttivo, del Parlamentino. Del Parlamentino Nazionale di Feder Consumatori. Allora, vi dico subito di cosa parliamo, perché stavolta, per motivi tecnici, è un pochino più breve, di tre cose. La prima, che è andata a buca, finalmente, la sentenza che io definisco della libertà di stampa, di cui abbiamo parlato anche con Petruzzi, in una precedente puntata, e che si è svolta al Tribunale di Spoleto. La seconda è la questione dei mutui, questo passaggio si può passare dal variabile affisso, che cosa sta succedendo, le banche lo concedono, la gente è convinta di sì, perché c'erano i famosi decreti bersani, che hanno liberalizzato, però in Italia, come al solito, prima si fa la legge, poi si svuotano piano piano. La terza è una questione che riguarda le tariffe, perché i cittadini, in molti casi, si sono trovati, nei mesi scorsi, davanti a un forte aumento delle tariffe, che però ha dei punti poco chiari, non poco chiari, che qualcuno è imbrogliato, proprio poco chiari nello spiegarlo, e sarebbe il caso che i cittadini lo sapessero. Andiamo subito sul primo argomento, il tema era questo. Un collega, Ceraso, che allora era direttore di tutt'oggi.info, fece un articolo, o una serie di articoli, adesso non ricordo, sulla Banca Popolare di Spoleto, e fu querelato per calunnia da un esponente, la Banca Popolare di Spoleto, adesso i nomi non interessano, perché poi alla fine è stato condannato, come vi dirò, almeno in primo grado. Cosa è successo? È successo una cosa che in Italia non si fa mai, e che è diventato un grande problema. Cioè, se il giudice si trova di fronte ad una querela, ad una richiesta di risarcimento danni, che è chiaramente intimidatoria, cioè è fatta più per far smettere di scrivere il giornalista, e il giudice valuta questo, deve, non dovrebbe, deve, è questo che i giudici italiani si devono mettere in testa, e non applicano mai, se non nel caso, che mi sembra sia stato il secondo, il terzo, del giudice coraggioso di Spoleto, deve indagare, proprio per, che si tratta di una querela temeraria, chi ha fatto la denuncia al giornalista. Voi capite che, soprattutto i grossi gruppi, no? Ci possono provare, ma anche i piccoli, perché chiunque prova a fare la denuncia, passano cinque anni, il giornalista è intimidito, spesso, con la crisi che c'è nel settore, le testate non garantiscono la copertura legale, e quindi praticamente voi non venite a sabere le notizie. Non a caso, noi siamo, nei paesi Ocse, non ricordo, la cosa mi pare, del cinquantottesimo, dei paesi per la libertà di stampa, su fondo per due motivi, uno per la situazione al sud, che è veramente drammatica, lì si arriva a sparare, si arriva a ferire, si arriva a colpire anche fisicamente i giornalisti, e però anche per questi motivi, perché rispetto per dire la tutela che c'è negli Stati Uniti, molto ampia, della libertà di cronica, in Italia c'è molto piccola. E poi è chiaro che allora allignano i siti impensati, perché la gente pensa che andando su quei siti scopa la verità, e alligna l'illegalità, perché ormai tantissimi siti hanno, il direttore è in Papuasia, e la sede in Albania, e tu se li quereli, mica li trovi. Cioè, è una situazione assurda che deriva da una mancanza di coraggio della magistratura, deriva dalla mancanza di coraggio della magistratura, per cui la sentenza di Spoleto, arriviamo alla conclusione, che ha condannato, proprio come querela temeraria, colui che aveva chiesto i danni, aveva querelato, il giornalista è stato in primo grado condannato. E il punto è che si stabilisce un principio che io mi auguro i giudici italiani prendano in considerazione, perché è anche colpa loro, se siamo al cinquantottesimo posto nella libertà di stampa, per un paese sviluppato come l'Italia, questo è semplicemente vergognoso. E loro ne sono responsabili, proprio perché, in parte, in piccolo magari, ma proprio perché non applicano completamente questo. A me non è mai capitato, mi è capitato, quando ho avuto le querelle, di essere assolto in una marea di volte, ma mai che un giudice abbia detto una proprio recentemente e dove nella sentenza dice che è proprio scombiccherata come dicono i toscani quelle accuse, però non è che ha messo sotto accusa colui che l'ha fatta. Quindi voi capite, queste cose vanno dette con molta chiarezza, se vogliamo diventare un paese, se no continuiamo a declinare, i nostri giovani giustamente se ne vanno, eccetera, eccetera, allegramente. Allora, Pedruzzi, l'avevamo trattato, c'è da dire, diamo atto alla Federazione Nazionale della Stampa, alla Federazione della Stampa Umbra, cioè al Sindacato dei giornalisti, all'Ordine dei giornalisti nazionali e all'Ordine dei giornalisti dell'Umbria che sono stati, hanno appoggiato a Spada Tratta e con la Caceraso, sono stati presenti all'udienza, hanno fornito tutto il supporto e quando sembrava che andasse in prescrizione, sono intervenuti e noi appunto facemmo una trasmissione per dire questa cosa non deve andare in prescrizione, non c'è andata, diamo atto, tu che ne pensi? Io penso che scenderemo ancora purtroppo nella classifica per quanto riguarda la libertà di stampa, perché quando noi ne abbiamo parlato in quella puntata per il piccolo contributo che possiamo e abbiamo dato, appunto hai citato chi si è schierato nel giornalista che poi la cosa assurda tu l'hai ricordata ma la vorrei chiarire ancora è che chi ha querelato quel giornalista era stato condannato per le cose che il giornalista aveva scritto, cioè erano vere. Adesso non lo ricordo, il punto il punto era comunque che quelle accuse erano strumentali, infondate, è stato condannato proprio perché ha fatto l'accusa perfetto, mi hai chiesto perché e che ne penso, noi come associazione ma anche a livello personale, penso che stiamo messi male perché in quell'occasione non si è schierata nessun'altra forma di rappresentanza collettiva, politica o di associazione d'impresa, di associazione del terzo settore, solo i giornalisti che sono quelli che giornalmente subiscono le persecuzioni e i ricatti e le intimidazioni e siamo in un periodo e non lo dice Feder Consumatorio Petruzzi, c'è un dato di un'authority che non è che è il massimo in Italia il ruolo che svolgono le autority la terzietà delle autority, diciamo così, ma la Gcom che è l'authority sulle telecomunicazioni in questi giorni ha pubblicato alcune statistiche per esempio di come viene gestita l'informazione in Italia e di come stiamo messi nei ricatti nei confronti dei giornalisti oppure vengono coccolati. Cioè una notizia si è dimessa una sottosegretaria perché condannata in via definitiva nel rincarico che aveva prima in Piemonte e la Gcom dice che in un telegiornale cioè il TG2 per esempio questa notizia non è stata data ma che è stata messa nel famoso sandwich prima, dopo a metà in fondo non è stata data. L'altra questione che vorrei sollevare visto che mi dai questa possibilità direttore è che oramai siamo alla follia in Italia cioè non ci sono più i politici o chi si deve assumere la responsabilità pensa ai ministri ai sottosegretari ma ci sono giornalisti che fanno diciamo così da portavoce nascosto perché tutti i talk show i dibattiti c'è il giornalista che difende il ministro c'è il giornalista che difende il sottosegretario c'è il giornalista che difende la forza politica o l'attacca a seconda dei ruoli ma possiamo tornare a un sistema democratico normale dove il giornalista fa i giornalisti la giornalista fanno le domande e i politici o gli amministratori di pubbliche amministrazioni comuni o le aziende rispondono no, noi abbiamo un blocco totale di presenza se non i video mandati e poi si scopre due giorni dopo che magari il direttore generale di un'agenzia diventa il capo portavoce dell'ufficio stampa della presidente del consiglio e finisco nel frattempo però succede anche che all'interno delle aziende pubbliche e private arrivano lettere o provvedimenti disciplinari perché non si può raccontare in maniera corretta e non strumentale quello che sta succedendo all'interno di quel servizio con tutti i danni che si creano ai utenti allora noi abbiamo bisogno di imprenditori perché l'altro problema caro Castellini e tu ne sai qualcosa per l'esperienza e per il ruolo che hai svolto e svolgi cioè non è che è solo un problema che i giudici non fanno quello che hai detto e che condivido ma qui abbiamo anche la necessità di avere dell'imprenditoria vera nel settore dell'informazione siamo in mano e lo so però dobbiamo io non rinuncio a denunciare qualcosa c'è qualcosa c'è e si muove però dobbiamo continuare almeno chi si sente libero di poterlo fare di denunciare che non è possibile che si passa da un gruppo a un altro con interessi solo politici e aziendali e quasi mai quasi mai di imprenditoria legata all'informazione bene volevo chiudere questa che siamo andati molto lunghi su questa valeva ovviamente la pena e credo che continueremo a seguire questi casi man mano che ne vedremo a conoscenza perché la battaglia per la libertà di informazione che poi è la battaglia per la libertà to cure cioè la battaglia per la libertà in Italia è ancora da conquistare poi sai noi abbiamo anche un cittadino medio italiano che non è che sia così cioè abbastanza inconsapevole per cui è facile fare tutto invece bisogna portare casi documenti cose no? Castellini io sono andato a Palermo la settimana scorsa al centro di Palermo vicino al teatro Massimo ho chiesto non dico quali giornali nazionali l'edicola mi ha risposto non arrivano da sei mesi fra i primi cinque giornali nazionali diciamo senza fare il nome due non arrivano nel capoluogo ma perché fanno accordi cioè ma capisci come siamo messi tu capisci perché io sono molto felice di avere tutti e due i miei figli che stanno all'estero no no vorrei fare la battaglia per rimanere in Italia siamo appolati noi ma non ci pensano neppure mica so che mi senti eh il secondo argomento ecco mi segnalavi alcuni problemi sul fatto io sapevo che in base ai decreti Bersani se io voglio cambiare mutuo cioè non cambiare banca si può fare anche quello ricontrattare il mutuo e voglio passare da un tasso fisso da un tasso variabile affisso l'inverso eccetera contatto la banca e mi fanno un'offerta e a quel punto io decido se accettarla non accettarla o magari passare a un'altra banca che sta succedendo invece tu mi hai detto ci sono serie difficoltà invece c'è fatta la legge passata la legge che ha bato lo santo no come come tutte le famose lenzolate la la legge che insomma chiamiamo Bersani esiste doveva e dovrebbe funzionare ma era soprattutto per l'ipoteca poi nel tempo abbiamo avuto altri tre passaggi il primo che a fronte della crisi delle banche a livello internazionale chi ha avuto un diciamo così un andamento improprio del proprio mutuo aveva la possibilità la prima volta con un accordo all'associazione dei consumatori l'ABI e il governo si potevano posticipare le rate in fondo e gli interessi in questo caso li pagava lo Stato poi c'è stata una seconda fase un altro periodo di crisi dove lo stesso accordo è stato fatto fra le associazioni dei consumatori e l'ABI l'associazione bancaria e in quel caso le rate venivano portate in fondo ma gli interessi erano comunque contrattati fra l'utente e la banca le difficoltà di queste ore sono enormi e crescono di giorno in giorno sono queste è stato annunciato qualche mese fa che a fronte della ripresa dei tassi di interesse per le scelte internazionali ma soprattutto della BCE la BCE la banca europea i tassi crescono e i cittadini si sono ritrovati se prima pagavano un piccolo mutuo per la casa da 430 a 440 a tasso variabile perché era un periodo buono perché c'è stato anche un periodo dove i cittadini hanno beneficiato i tassi erano bassissimi si sono visti in 5-6 mesi a arrivare quel mutuo a 560 a 570 io ne ho uno era piccolo poi ne ho uno invece che pagava fino all'altro giorno fino a qualche mese fa un mese o due fa 460 euro e adesso ne paga 700 questo signore sentite i mezzi di informazione appunto e i proclami a livello nazionale che si poteva andare in banca chiedere di ricontrattare il mutuo passando da mutuo variabile a mutuo fisso con un'agevolazione perché questo era l'invito sta schizzando tutto stabilizzatelo non avrete i benefici che avevate prima ma comunque non andrete in un mar di guai la segnalazione che ci arriva sistematica in queste ore delle verifiche che abbiamo fatto è che le banche o non sono in grado di farlo e i costi non sono chiari oppure proprio rispondono noi non abbiamo direttive abbiamo fatto una verifica in queste ore è vero nessuna banca ha una direttiva precisa qual è la forbice del costo che deve fare a Petruzzi se va lì a cambiare il proprio mutuo da variabile a fisso l'ultima circolare interna di uno degli istituti di credito più grossi è di una settimana fa questo perché non c'è un accordo fra l'ABI e il governo su chi sostiene i costi perché poi se uno lascia l'andamento libero c'è chi da una parte e chi fa il profitto giustamente il loro mestiere le banche ma dall'altra c'è anche chi non riuscirà più a pagare quindi va trovato un equilibrio non a caso era scattata questa cosa e poi non c'è una indicazione congiunta del sistema bancario per dire questa è la forbice dentro questa si fa concorrenza o si fanno i propri prodotti e le proprie offerte tutto questo quindi che cosa devono fare questi poveri cittadini che vanno in banca e devono fare no purtroppo non è che devono sono già andati in banca hanno fatto l'isete e gli dicono che non si può e le banche sono ferme ma non è un problema del direttore dell'elettrice no no certo no perché io quando ho avuto conoscenza di questa situazione cioè in una settimana ne ho ricevute per il piccolo mondo che rappresentiamo nel Perugino nella provincia di Perugia una cinquantina di segnalazioni abbiamo attivato non più tardi di ieri la struttura nazionale anche per uscire all'esterno e chiedere all'Api e anche a chi di competenza in Parlamento guardate che sta arrivando un alluvione è un problema enorme perché poi le famiglie giustamente i signori o le signore che si ruolano dicono sì in attesa che fanno la circolare però a me 300 euro al mese o 200 al mese in più io non riesco a sostenere chiamiamolo allora il mutuo del niente saccio per ora non sanno niente niente saccio va bene quindi però non si può continuare a fare annunci e poi certo perché meglio prenderla meglio prenderla come si dice a ridere questo è un paese dove tutto è serio ma è sempre melodrammatico allora andiamo volevo a parlare da questo punto del terzo argomento tu me l'hai accennato ma io non ho colto bene nel problema le tariffe però se me l'hai accennato ho visto come sei puntiglioso segno che il problema c'è le tariffe sono queste in questi giorni ma quali tariffe intanto del gas e della luce gas e luce gas e luce che succedeva c'è stato un periodo dove a fronte delle offerte anche aggressive che continuano molti cittadini si trovavano con un costo alto della propria tariffa e del proprio servizio e cambiavano cosiddetto zapping fra un gestore e l'altro le offerte ricorrevano dentro la tariffa c'è una parte che è però tassa le famose accise l'iva la distribuzione che non è che passando da un gestore che ti vende la materia prima l'altro quella roba lì rimane sospesa è evidente che il legislatore e l'autore che hanno fatto hanno cercato e introdotto un meccanismo per evitare non tanto di colpire le persone oneste ma i furbetti che ci provavano quindi scaricando e lasciando in sospeso quei costi e hanno introdotto un sistema che si chiama Cimorro cioè nel senso che io passo a un altro gestore quel gestore quello nuovo però ha l'obbligo di riscuotere la parte tasse di accise ed itiva che non ho pagato di là questa roba teoricamente è pulita e è giusta il problema è che è il problema che i cittadini non riescono come penso chi ci ascolta sa ma non perché non sono capaci perché è quasi impossibile leggere la semplice tariffazione dei nostri servizi luce gas e acqua e si trovano in alcuni casi magari ad aver intrapreso e ad aver avuto un recupero crediti dal vecchio gestore dal vecchio fornitore e anche lì ci stanno queste voci poi magari se le trovano in contemporanea di qua perché i sistemi non hanno comunicato io ho gente che onestamente dice io voglio pagare o di qua o di là però fatemi pagare o di qua o di là e nemmeno le aziende anche le grandi aziende non più tardi di un'ora fa mi hanno consegnato una serie di bollette fatture sul gas dove la nuova azienda che è un'azienda leader a livello nazionale dice intanto pagaci quello che è dovuto a noi poi vedi il contenzioso di là come si rivolve e noi poi faremo o il conguaglio oppure prendiamo atto che con il vecchio gestore la cosa è di solito ma capisci che chi vede arrivarsi bollette doppie perché di fatto di questo si parla in un periodo dove i costi erano quelli che erano e non tutti la mattina hanno un assistente o qualcuno che li aiuta a fare questo lavoro e sono centinaia di migliaia di persone in giro per l'Italia in questa situazione quindi il consiglio è giusto valutate bene pagate il dovuto così non diventate morosi e non vi staccano si può fare come faccio se ho il bollettino o l'accredito in banca prendi il bollettino ci scrivi le trai quella voce e poi nel frattempo mandi i reclami alle due aziende bene e comunque per i cittadini possono sempre rivolgersi a Feder Consumatori sì le associazioni tutte penso che tutte le associazioni di consumatori sono comunque adesso stiamo pensando anche la mia quindi ovviamente il sito è federconsumatori.it per quella nazionale no? Feder Consumatori Umbria per l'Umbria Feder Consumatori Umbria lo mettete su Google bene siamo arrivati in fondo come vedete valeva la pena nel senso tre argomenti insomma rilevanti importanti che senza peli sulla lingua come al solito con Petruzzi tiriamo tiriamo fuori e vi ringrazio tanto ringrazio ovviamente grazie a voi Petruzzi Feder Consumatori Nazionale e Feder Consumatori Perugia e vediamo appuntamento adesso Alessandro raccoglierà qualche altra tanti problemi non mancano mai in Italia quindi e cercheremo di fare chiarezza su alcuni su alcuni punti che toccano direttamente i cittadini e che è importante conoscere grazie grazie a voi